Le previsioni per giovedì 5 settembre 2024 di Globus Television. Pressione in diminuzione. Giornata in mattinata stabile con cielo a tratti nuvoloso. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui settori costieri settentrionali verso quelli più interni con precipitazioni a carattere irregolare, temperature massime fino a 35 gradi, mari, martirreno da calmo a quasi calmo, marionio da poco mosso a mosso, stretto di Sicilia mosso.